Il Cosmopolitan è l'ultima struttura di prestigio realizzata dal gruppo Giustozi Hotels. Rappresenta la fusione tra ospitalità, passione e amore per il territorio. L'hotel Cosmopolitan è dotato di 108 camere, di cui 9 suite, una diversa dall'altra. Internamente alla struttura c'è un laboratorio di pasticceria che ogni giorno prepara gustose brioche, torte genuine e frullati di frutta fresca. Il ristorante propone gli ottimi piatti della gastronomia regionale che si fondono con la cucina nazionale e internazionale. Il Cosmopolitan Restaurant propone anche menù per vegetariani, diabetici e ciliaci. La struttura è un business hotel con sale tecnologicamente attrezzate e modulabili per la totale flessibilità nell'organizzazione, accessi differenziati e grandi vetrate. La nuova sala congressi, posta in un edificio esterno all'hotel e collegata a questo da una passerella, è l'ideale per grandi eventi, convegni, congressi, conferenze e sfilate di moda.